E' stata una lunga trattativa quella tra un padovano residente a Vigo d'Arzere e due uomini di etnia Rom interessati a comprare la sua vettura. Una trattativa che ha portato il venditore a fidarsi degli acquirenti, tanto da affidargli l'auto prima di ricevere il saldo del pagamento, salvo poi non averne più notizie. Un eccesso di fiducia che lo ha costretto a rivolgersi ai carabinieri per riuscire a risalire ai compratori e provare ad avere giustizia. Protagonisti della truffa, un 34enne e un 39enne. Durante un incontro i due acquirenti hanno consegnato i primi 200 euro su un totale di 6.000 a titolo di acconto e il venditore in buona fede li ha lasciati andare via con il mezzo per poterlo provare prima di ricevere il resto del pagamento. A rintracciarli dopo alcune settimane sono stati i carabinieri.